Buonasera, oggi è il 18 ottobre 2013, questo messaggio è per l'equipaggio di maestrale, questo è un orecchio di spugna, lo riconoscete? Ok, ormai siamo lontani, non veniteci a cercare, noi vi mandiamo un spugna e voi ci date una ricompensa, un riscatto, vogliamo un milione di euro per spugna, per dimostrarvi la nostra buona volontà, vi mostriamo spugna, a cui abbiamo dato la tinta per non farla riconoscere alla frontiera, quindi prima ci date i soldi, prima spugna ritornerà da voi. Viva, viva, viva!